Una signora non si lascia mai sola. Questo è il nome dell'iniziativa di Provincia di Milano e Radio Taxi Freccia che consente uno sconto del 10% sulla corsa in taxi per tutte le donne non accompagnate. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo Zimbardi dal presidente della provincia, l'assessore alle infrastrutture e l'assessore alle pari opportunità. Provincia di Milano e Radio Taxi Freccia insieme per non lasciare mai da sole le signore. Di cosa si tratta? È un'iniziativa che abbiamo pensato di fare vedendo cosa recentemente purtroppo succede molto spesso alle donne che si muovono da sole per le grandi città. Milano e Roma sono quasi spesso all'ordine del giorno dei telegiornali per le disavventure che capitano alle donne. Quindi noi abbiamo pensato di favorire l'accesso a un servizio pubblico come il taxi alle donne per essere più sicure nel momento che si muovono per la città. Abbiamo quindi deciso come 024000, che è uno dei radiotaxi di Milano, di concedere uno sconto 24 ore su 24 alle donne, alle signore non accompagnate che prendono il taxi. Quanti sono i taxi su Milano e provincia di Milano della vostra? I taxi di Milano e provincia si muovono all'interno della provincia di Milano indifferentemente su Milano e sulla provincia. Noi abbiamo un centinaio di taxi nella nostra compagnia, saranno un 60-70 su licenza di Milano e gli altri su licenza dei paesi limitrofi, però si muovono tutti indipendentemente sul territorio della provincia. A quale numero bisogna rivolgersi? 024000. Avrete un servizio puntuale, cortese, preciso. I nostri assisti sono molto cortesi con le signore, ovviamente. Grazie a tutti.